Grande giocata di Maggiukic, per Alessandro, il movimento di Higuain, inschipita! Alessandro la mette in mezzo e Higuain la butta dentro e Juve ancora una volta che spegna i primi minuti con il numero 15 per Higuain. Magno Dolimono, Gianni, vivi solo di queste miserie umane, questa è la verità. Gianni, sei poveraccio nell'animo. Mamma, mi fai ridere, guarda, ma quanti ce ne sono come te? E poi pausano.